Qual è la relazione tra arte e mafia? Il mercato artistico, con un fatturato annuale enorme ed in costante crescita, è sicuramente un ambito appetibile per le mafie. Nella terza pillola della rubrica ideata per difendersi dalla mafia, abbiamo chiesto a Claudio Metzger, esperto d'arte e di fama internazionale, qual è la relazione tra arte e mafia. La differenza fra gli altri ambiti e l'arte è che nel campo artistico è difficile definire con precisione il valore dell'oggetto, il valore commerciale dell'oggetto. È possibile sopravvalutare certe opere. Sopravvalutandole si crea un valore molto maggiore convenuto solo fra la parte acquirente e la parte venditrice che non viene identificato, che non viene compreso, che non viene scoperto eventualmente dagli investigatori o dalle parti inquirenti. E se il mercato dei falsi d'autore è uno degli ambiti di interesse della mafia? Mi sembra una relazione un po' difficile da instaurare perché, a meno che non sia come la vendita di false borsette o la vendita di falsi telefonini o altri oggetti falsi, perché nell'ambito del riciclaggio l'oggetto deve avere veramente un certo valore. I falsi si scoprono, i falsi sono oggetti di tentativi che di solito alla fine, dopo anni o dopo poco, vengono scoperti. Per cui lo vedo molto pericoloso per dei mafiosi lavorare con dei falsi. È molto più facile lavorare con opere autentiche sopravvalutandole.